C'è una notizia che esce adesso sulla Repubblica, io intanto chiedo alla regia video di preparare la prima pagina subito sotto, che riguarda la scuola, subito sotto la morte di D'Averio e nella prima pagina della Repubblica online quindi non stiamo parlando del giornale completo, c'è una notizia che, ecco, scusami Enrico, parliamone subito perché io trovo che sia una cosa carissima, zoomiamo ancora dalla regia perché ci vede a casa, la leggiamo a scuola solo mascherina chirurgica, il CTS bandisce quelle di stoffa, sospensione e 5 in condotta per chi non la indossa ora Enrico, io voglio dire, ma in un paese civile una notizia del genere avrebbe potuto essere pubblicata cioè dire ai bambini, ai ragazzi e ai bambini, sospensione e 5 in condotta per chi non indossa un bavaglio cioè insegniamo ai nostri figli ad essere imbavagliati fin da piccoli e a star distanti dal loro vicino di banco questo solo in Italia dove non esiste emergenza, in tutti gli altri paesi civili, questo non accade in Svizzera hanno riaperto le scuole, già vanno a scuola e mascherina non sanno neanche no, ma scusate allora in un paese civile, scusami, ma può esistere una notizia del genere su uno dei giornali principali Enrico, a me questa cosa, mentre parlavamo, l'ho letta adesso, mi sta facendo venire, ecco guarda leggiamola insieme perché a me sembra un Truman Show, un Truman Show questo c'è da fare una precisazione, se il bambino non ha la mascherina, probabilmente perché il genitore può non avergliela procurata cosa c'entra il 5 in condotta che riguarda il comportamento del bambino all'interno del plesso scolastico? No ma poi Enrico, ma poi questa storia delle mascherine No ma è una follia Adesso io, io credo che prima Ma è da capire anche chi è che ha diffuso questa Repubblica Ma Repubblica, sì però Ma questa storia della mascherina e del 5 in condotta è veramente O è una fake news come al solito È una fake news No, io l'ho letta adesso, sono rimasto sconvolto O ci sono queste teste che non pensano e decidono E poi fanno marcia indietro quando c'è la sollevazione popolare Perché questi signori hanno deciso tutto per non decidere nulla Perché poi alla fine nella scuola, che cosa si fa? Voglio dire, della scuola non si sa nulla Cioè, il 14 inizia, non sappiamo ancora che cosa accadrà Per cui ecco io Guardate, dobbiamo tornare al vecchio Continua Enrico I negazionisti saranno lasciati a casa Ma ragazzi, ma qui qualcuno vuole alimentare una guerra No, qualcuno vuole alimentare una guerra Avete finito il business, non so, delle armi, delle guerre Perché qui qualcuno vuole Io credo che queste persone che scrivono queste cose Che pensano queste cose Io credo che siano dei guerrafondai Che vogliano la guerra Enrico, io guarda, lo dico, mi prendo la responsabilità Io credo che le persone che scrivono questo Stiano innescando un contrasto sociale Loro vogliono uno scontro sociale Guarda Uno scontro sociale in questo paese Guarda Enrico Noi dobbiamo difendere l'integrità del paese Sì, noi siamo in questa Non dovremmo farlo noi La democrazia Non dovremmo difenderla noi paradossalmente Qui ci sono degli organi preposti alla difesa della democrazia Noi stiamo supplendo a quello che dovrebbero fare Non hanno neanche il coraggio di parlare Libera scelta Ma che cosa significa libera scelta? Quando stanno tagliando i rappresentanti del popolo Che cosa significa? Cioè, tu che sei un rappresentante del popolo Voti per l'autocastrazione Ma perché non sei un rappresentante del popolo Sei un impostore Che stai lì soltanto perché nella maggior parte dei casi sei nominato E per cui per te c'è la tutela dei tuoi interessi E se non ti mandano lì Ti manderanno in un consiglio di amministrazione da un'altra parte Non pensiate che tagliando i parlamentari Voi tagliate tutta una orda di soggetti Dediti alla carriera Perché troveranno occupazioni altrove Noi abbiamo centinaia di migliaia di società in house A completa partecipazione pubblica Dove si debbono scegliere tre consigli di amministrazione Di cui un presidente, un amministratore delegato Dei direttori generali La spartizione continuerà lì Invece noi abbiamo bisogno Di parlamentari che rappresentano i territori Che li difendano i territori Che siano in grado di portare avanti le battaglie per quei territori Non abbiamo bisogno di usurpatori Di collegi enormi Dove il parlamentare viene eletto da Siena a Napoli Che non sa magari di Trento Non sa neanche se si tratta di problemi riguardanti la tuscia La ciociaria La parte irpina Non sa niente Sparisce il giorno dopo e non lo vede più nessuno E magari il giorno dopo ancora cambia partito Ma quello è un impostore Perché è un impostore? Perché è stato creato il terreno Perché prolifichino gli impostori Gente che non c'entra niente con la rappresentanza del popolo Noi dobbiamo avere collegi piccoli E un numero di rappresentanti tali Da rappresentare tutte le diversità presenti su tutto il territorio nazionale È vero Enrico E addirittura Lasciami proprio dieci secondi Fabio per dire Io introdurrei Quello che la Costituente non ebbe il coraggio di fare Ossia il fatto di potere i cittadini Questa era la vera riforma Revocare il mandato Far ritornare dinanzi al collegio Quell'impostore che magari si era preso i voti Dicendo che avrebbe fatto l'ospedale, la strada e quanto e quell'altro E poi magari nei suoi voti votava l'esatto contrario Ecco quando c'è questa mistificazione, questa falsità E non si può censurare Ecco allora lì c'è bisogno di una riforma Ma non tagliare i rappresentanti del popolo Non tagliare la democrazia Poi non ho mai visto nessuno Enrico, Fabio, ascoltatori Che è all'interno Di un'organizzazione Che lavori per Minare quell'organizzazione Voglio dire Che parta dai parlamentari La volontà di diminuire il numero dei parlamentari È come disattendere Proprio quella missione Venisse da qualche altro ente Uno potrebbe anche discutere Vediamo, combattiamo Ma è ovvio che c'è un disegno diverso Che è quello proprio di togliere la rappresentatività Di far sì che la politica non sia più la politica vera La politica La vera politica Non ci sia più la sovranità del popolo E certo Ci sia più il potere in capo al popolo Ma sia in capo alle lobby Sia in capo a chi di finanzia Sono dei camerieri Perché estendere i collegi In maniera così macroscopica Tanto da rendere il candidato uno sconosciuto Perché? Perché quello sarà costretto Ad affidarsi a chi lo finanzia E risponderà a chi lo finanzia Esatto Ecco perché Sono solo dei maggior domi Dei camerieri Con tutto il rispetto Per il maggior domi Dei camerieri Che fanno un lavoro Importante Bello Ma in quell'ambito Se fai il maggior domo Ma non il maggior domo Dei potenti A danno dei cittadini Quello Passateci Diciamo Il paragone Ecco Enrico Queste cose che abbiamo letto Proprio perché Sanno veramente Di eversione Sono il risultato Finale Sono il risultato Finale Di quello che tu stai dicendo Del fatto che la politica Non c'entra più nulla Con il popolo Leggere un'artizia Di questo genere Le mascherine Ai ragazzi Che già la mascherina Di per sé Non serve a nulla Dicasi nulla Primo perché C'è scritto fuori Secondo perché Ce l'hanno spiegato Insigni scienziati Qualcuno dirà Memma Hanno detto No la mascherina È provata No non è provata Perché ce ne sono Quelli che dicono Che è provata Guarda caso Collegati a chi le vende E quelli invece Gli scienziati Altrettanti Forse con maggiori titoli Che dicono Che non serve Assolutamente a nulla In Olanda In Svezia Sono state addirittura Bandite Vietate Addirittura Vittorio Sgarbi Ha avuto il coraggio Ha fatto bene Di vietarle Nel suo comune Quando non sono necessarie Non servono Perché lo vieta Proprio la legge Italiana Addirittura Quindi La maschina Ha già una minchiata Di suo E io sono Guardate Io sono pronto A qualsiasi confronto Ovviamente con gli scienziati Con la gente che ha i titoli Perché Quando c'è un dibattito C'è un dibattito Non c'è qualcuno Che pensa di avere la verità Ed imporla ai bambini Ai ragazzi Che ormai si sa Non hanno alcuna Gli asintomatici Sono assolutamente sani Lo dice Fauci Tre giorni fa In un convegno Ripreso da tutti Lo trovate sulla rete Adesso lo metteremo anche noi Cioè Che dice Lo dice addirittura Una persona fuori Da ogni sospetto E ancora Noi andiamo avanti Con queste mascherine A scuola Cinque in condotta Per chi non la indossa Enrico Io penso che Ma non sarebbe No non ci avrebbe Ma io credo che I nostri padri costituenti Non avrebbero Ma Pensare una cosa del genere Enrico È Allucinante Però Io voglio dire una cosa Enrico Che il diavolo Fa le pentole Ma guarda un po' Dei coperchi Si dimentica sempre Per fortuna Per fortuna Perché Perché andiamo Se noi andiamo Sul Corriere della Sera Sempre un atto Di questi giornaloni Ormai di proprietà Di Però ogni atto Gli scappano E gli sfuggono le notizie Non si rendono poi conto Che pubblicarle Significa comunque Per le persone intelligenti Fare Ah Tana libera tutti Cosa ci dice Guarda io l'ho letto prima Speriamo ci sia ancora La notizia Ma ritengo di sì Quale era la notizia La notizia Sempre in prima pagina Era scuola È sempre la seconda notizia Dico questo Per la regia video Poi noi stiamo facendo Le cose live Quindi Senza prof Oltre 50.000 cattedre In migliaia Hanno chiesto L'esonero Ma grazie Ma se voi terrorizzate La gente E gli dite Che il virus Li uccide ancora Che cos'è Che il bambino Porta le mascherine E si sa che Non li porteranno portare Che capito Eccetera eccetera Che quindi la scuola Sarà un ricettacolo Di contagio Eccetera Ma se io sono Un'insegnante Di 60 anni 65 E ho qualche Diabete Tu mi hai terrorizzato Dicendomi che io morirò Ma io Marco visita Ma io Marco visita Poi tra l'altro Un nostro ascoltatore Ci fa notare Giustamente Ci scrive E ci dice Guardate che Repubblica Di proprietà degli Elkan Quelli che hanno ricevuto L'appalto delle mascherine E quindi devono terrorizzare Sulle mascherine Apposta Ecco vedi i conflitti Di interesse Queste cose Una sana politica E rappresentanti Del popolo Dovrebbero domattina Fare una legge Immediata Per i conflitti Di interesse Subito Certo Mentre invece Questi parlamentari A cominciare Dall'attuale ministro Dello sviluppo economico Patuanelli Quando noi abbiamo Presentato il disegno Che diceva Di aiutare Gli editori puri Questo signore Lo ha stracciato Lo ha cancellato Dal decreto Nel quale Era già stato inserito Dal MEF Hai capito Vergognati Io questo voglio dire Perché quella è democrazia Perché quella si chiama democrazia Si vede che A loro non interessa Questa democrazia La gente è stata Ingannata Da questi signori Per me Questa è eversione L'articolo Apparso su Repubblica È un articolo Eversivo oggi Perché dice E spaventa i bambini Tra l'altro Su qualcosa Che neanche esiste Perché questa storia Della mascherina in classe Io non l'ho letta Da nessuna parte La leggo solo adesso Su questa carta straccia Ma il 5 in condotta Eh guarda Lo stiamo rivedendo Il comportamento Che prescinde dal bambino Si hai capito Che è un minore Che è un minore Che è un minore Ma non vi vergognate Una punizione Il 5 in condotta Ma veramente Io penso Guarda Ma mamma mia Ma io sono spaventato Per dare il giugno Però attenzione Cerchiamo di capire Chi è che ha tirato fuori Questa Ma non può Ma non può apparire Ma non può apparire Su un giornale Che ha preso Centinaia di milioni Ah beh Questo è un problema Del giornale No Non è tuo Francesco Perché tu gli hai dato I soldi a quel giornale Perché quel giornale Ha preso milioni Milioni di danaro pubblico Noi non abbiamo preso Un centesimo Quel giornale Ha preso milioni Di danaro pubblico Per pubblicare Queste cose Oscene Vergogna al direttore Vergogna al direttore Perché leggendo qui Mi pare che sia L'iniziativa Vergogna Anche Della Delle sanzioni disciplinari La sospensione Anche due interrogazioni Ogni mattina Per tre giorni La gogna Non so che cosa ci sarà No Credo che sia Iniziativa Di una Preside Di Perugia Ma non la puoi pubblicare È terrorismo Se tu la pubblichi Con una notizia Così come abbiamo fatto vedere Viene pubblicata Viene pubblicata Le mamme Le mamme che leggono Sì Le mamme che leggono I bambini che leggono Si spaventano Ecco Stiamo facendo rivedere No ma Enrico Guarda che questa è una cosa gravissima Sì 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 La trovo gravissima Ma questa è La trovo gravissima È terrorismo Puro Puro Guarda veramente Questa è aversione Ma è aversione Della nostra libertà Della libertà Mascherine Ma perché Ma qual è l'emergenza Della mascherine Sarà vietato il canto Anche nell'ora di musica Sempre per problemi Questa è la libertà Stiamo perdendo Va beh Enrico Grazie Ma è una follia Dai lo riprendiamo Ciao Enrico Buona giornata a tutti Va ripreso Ciao Ti appraccio immensamente Difendiamo la democrazia Didnrado Buona giornata a tutti